Poiché vedo che su questo argomento vi è un particolare caos interpretativo, voglio provare a delucidare alcuni punti che mi paiono assolutamente nodali, senza alcuna pretesa di esaustività, ma solo con l'intento di gettare luce su alcuni passaggi che ritengo decisivi, inerenti naturalmente al rapporto fra Cina e Stati Uniti. Ebbene, spiegherò per quali ragioni in sintesi ritengo che vi sia più che mai bisogno di una Cina forte, sovrana, autonoma, militarmente indipendente e in grado di costituire un blocco antagonista a quello della mondializzazione a stelle e strisce. Faccio una piccola premessa, col 1989 finisce la terza guerra mondiale, la guerra fredda, e comincia subito la quarta guerra mondiale, la guerra che gli Stati Uniti d'America, la monarchia del dollaro, dichiara a tutti gli Stati che non siano allineati con il Washington Consensus. Inizia cioè in senso proprio la mondializzazione capitalistica, che coincide di fatto con l'occupazione neocolonialistica integrale del mondo da parte della potenza uscita vincitrice dalla terza guerra mondiale e che ora, venuto o meno il Weltdualismus e la divisione del mondo secondo il principio del cui us regio e us economia può pretendere di sottomettere al proprio dominio il mondo intero. Ebbene è per questa ragione che tutti i conflitti dopo il 1989 sono diversi fra loro ma tutti si lasciano ricondurre a un unico principio. Gli Stati Uniti d'America che dichiarano dittatoriale, stato canale e totalitario il governo che non sia disposto ad allinearsi con Washington, sia esso l'Iraq di Saddam Hussein, la Serbia di Milosevic, la Libia di Gheddafi e così via, di guerra in guerra. Ripeto, diversissime fra loro ma tutte riconducibili a questo principio unitario. Ebbene capita però che nella sua avanzata imperialistica la monarchia a stelle e strisce incontri dinanzi a sé potenze che non si lasciano debellare facilmente come è stato il caso della Serbia di Milosevic o della Libia di Gheddafi. Potenze colossali come la Russia di Putin che dopo un periodo di sonno della ragione con Boris Yeltsin e ancora prima con Gorbaciov ha ripreso a porsi come potenza antagonistica e indipendente rispetto all'imperialismo a stelle strisce, ciò che è avvenuto con Vladimir Putin. Potenze ancora come la Cina che vantano una propria autonomia, una propria indipendenza monetaria, economica, politica e geopolitica. Potenze che non possono essere scardinate facilmente con un bombardamento etico, con un imperialismo terapeutico immediato, ma che richiedono appunto un conflitto di altro tipo. Ecco perché siamo da tempo nel quadro di un conflitto duraturo contro la Russia di Putin, continuamente demonizzata, continuamente accerchiata da basi della Nato nei confini degli ex spazi sovietici, destabilizzata con rivoluzioni colorate come quella della Georgia o dell'Ucraina e poi naturalmente destabilizzata anche sul piano dei costumi con fenomeni da baraccone squisitamente postmoderni atlantisti come le pussy riots, le femen e così via. Per quel che riguarda la Cina la situazione è diversa ma si lascia anch'essa inquadrare in questo orizzonte di senso. La Cina è una potenza militare, economica, geopolitica, da tempo non si piega al mondo a stelle e strisce e di più resiste. La Cina peraltro è diventata da tempo un colosso economico indipendente, ha accettato la sfida del capitalismo e la sta vincendo accettando le regole stesse del capitalismo e dell'economia di mercato, pur senza rinunziare ad essere formalmente o di fatto uno stato comunista. La Cina, dicevo, non può essere bombardata dagli Stati Uniti dall'oggi al domani come supponiamo la Libia ed è per questo che già da tempo stava salendo la tensione fra Cina e Russia, tra Cina e Stati Uniti, pardon, ciò che stava culminando già con la vicenda Huawei, con la corsa al 5G e quindi già da tempo si stava determinando una vera e propria conflittualità di tipo analogo a quello della guerra fredda interna alla terza guerra mondiale tra Stati Uniti e Unione, ex Unione Sovietica. Ciò sta culminando ora con la tensione legata al coronavirus. Già da tempo gli Stati Uniti dicono essere il virus coronavirus, un virus cinese, il virus di Wuhan. La Cina per parte sua risponde dicendo che è un virus della CIA, è un virus di origine statunitense. Ebbene, quale che sia l'origine di questo virus prodotto nel laboratorio dall'America contro la Cina, prodotto nel laboratorio dalla Cina contro l'America, sospendiamo per ora la vexata Questio, quel che è chiaro è che siamo al cospetto di una nuova guerra fredda. Guerra fredda che peraltro è stata apertamente menzionata dalla Cina maggio 2020, che ha riconosciuto essere presente ormai una vera e propria guerra fredda tra Stati Uniti e Cina all'interno di questa quarta guerra mondiale. I tratti che ricordano la vecchia guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica sono molti. Non c'è più la corsa allo spazio ma c'è la corsa al vaccino. Non ci sono veri e propri momenti di belligeranza aperta fra i due contendenti ma ci sono punti caldi. La Corea, il Vietnam ai tempi della guerra fredda tra Russia e Stati Uniti. Ora il caso di Hong Kong in questa nuova guerra fredda tra Cina e Stati Uniti. In sostanza, ripeto, siamo al cospetto di una conflittualità come la precedente, mutatis mutandis. Ecco, da questo punto di vista, istante l'analogia con la vecchia guerra fredda, ritengo, ripeto, che sia indispensabile la presenza di una Cina forte, autonoma, militarmente indipendente, tale da garantire la propria capacità geopolitica di resistere alla monarchia dell'hamburger, di porre resistenza rispetto alla monarchia a stelle e strisce. Qualora la Cina dovesse capitolare, ne scaturirebbe l'atlantizzazione di quello spazio e quindi il procedere ancora oltre della globalizzazione a stelle e strisce. Chi realmente abbia compreso l'esigenza di contestare il globalismo, di opporsi operativamente, teoricamente adesso, sa bene quanto sia importante il principio del multipolarismo o del poliarchismo, che dir si voglia. Più stati indipendenti e sovrani, più blocchi indipendenti vi sono e meglio è. Occorre battersi per un multipolarismo, per un multiversum, contro il monopolarismo a stelle e strisce, contro la globalizzazione, che altro non è se non un'americanizzazione del mondo intero, con annessa occupazione imperialistica e militare di tutti gli stati non annessi. Per questo, personalmente, ritengo della massima importanza appoggiare tutti gli stati sovrani nazionali che resistono alla globalizzazione, cioè alla cosmopolitizzazione a stelle e strisce dei loro spazi. Siano esse la Cuba di Fidel Castro, la Siria di Assad, la Russia di Putin, la Corea del Nord e naturalmente la Cina stessa, che da questo punto di vista mi pare svolgere egregiamente una funzione catecontica, direbbe la teologia politica, di baluardo resistenziale all'atlantizzazione del mondo intero. La Cina, come gli altri stati che resistono, Ivi compresa la Russia di Putin, svolgono la funzione, diceva Costanzo Preve, di piede che si pone nello stipite del capitalismo globalizzato prima che esso si chiuda definitivamente. Insegnano anche a noi l'importanza di resistere e di non cedere alla globalizzazione a stelle e strisce, giacché un mondo multipolare è sempre da preferirsi a un mondo monopolare. Essendo il mondo monopolare nient'altro che la monarchia universale, come la chiamava Kant nella pace perpetua, cioè l'occupazione integrale del mondo da parte di una forza, ciò che non genera ordine e pace, bensì caos e guerra permanente. Non per caso dopo l'89 è venuto meno il conflitto della guerra fredda che congelava le conflittualità reali, sono riesplosi endemici i conflitti reali in nome della globalizzazione. Ecco perché, ripeto, abbiamo bisogno incondizionatamente di una Cina forte e indipendente, anche militarmente indipendente, in grado di svolgere il ruolo di deterrente materiale rispetto all'imperialismo, al delirio di imperialismo statunitense.